Focus sulla ricostruzione, sul restauro e la riqualificazione urbana post terremoto con la Carmes Officina L'Aquila che dal 26 al 28 ottobre vedrà protagonisti esponenti della stampa, tecnici specializzati e rappresentanti del mondo istituzionale a confronto sulla riqualificazione del capoluogo e dei borghi dopo il 6 aprile 2009. Prima di tutto c'è i cantieri aperti, nella tre giorni i cantieri saranno aperti, è possibile prenotare delle visite guidate per conoscere la qualità e le caratteristiche della ricostruzione, poi c'è la parte più convennistica nella quale interverranno il primo giorno anche i giornalisti stranieri perché fa parte del progetto di officina quello di far conoscere la qualità della ricostruzione aquilana e quindi verrà presentato tutto il processo di ricostruzione da un punto di vista tecnico e politico incominciando a lanciare un messaggio anche sul tema dell'Aquila del futuro. Il secondo giorno sono incontri internazionali, si affronteranno e si confronteranno esperienze aquilane con esperienze internazionali e a fine di questa giornata di nuovo ci sarà un intervento sulla L'Aquila del futuro tenuto da Coach, il rettore del Gran Sassuolente Institute. Il terzo giorno che si chiama Officina Next è appunto un giorno dove si dialogherà tra operatori aquilani e operatori nazionali sulla possibilità del futuro aquilano come nuova città che dalle sue cenere rinasce.